Alle 5 si riparte con una stagione di grandi novità. La stagione più ricca di sempre. Sette giorni su sette in prima serata. Domenica, scherzi a parte. Ci siamo! Lunedì e venerdì, Grande Fratello Vip. Martedì, Il Grande Calcio, la Champions League. Mercoledì, Una Nuova Fiction, Luce dei Tuoi Occhi. Giovedì, La Magia di Star in the Star. Sabato, Tu Sì Che Vales. E dal 27 settembre, da lunedì a sabato, l'unica, l'inimitabile striscia alla notizia. Grandi emozioni in prima serata. Sette giorni su sette. Sul Canale 5.